Utilizzando sempre la scheda di protezione BMS1S andiamo a creare assieme un altro tester di scarica delle batterie 18650. Le caratteristiche della BMS1S sono quelle di proteggere la nostra batteria 18650 da sovraccarica, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito e da sovrascarica. Infatti a quest'ultimo vedremo come la batteria verrà portata ai valori di 2,7-2,8V applicando un carico. Ci occorrono per costruire il nostro tester di scarica un portabatterie per 18650, il carico, in questo caso lucine a LED, un interruttore e la nostra BMS1S. Procediamo con il preparare le connessioni della 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 BMS1S. giuntiamo i cavi del porta batterie rispettando il polo positivo e il polo negativo e il polo positivo le lucine vengono collegate assieme al polo negativo P- della BMS-1S e il polo positivo le lucine vengono collegate assieme al polo positivo il polo positivo delle lucine all'ingresso dell'interruttore e l'interruttore va collegato al polo positivo P- della BMS-1S e il polo positivo delle lucine all'interruttore e il polo positivo delle lucine all'interruttore fissato il tutto andiamo a inserire la batteria accendiamo e aspettiamo che la batteria si scarichi totalmente la batteria raggiunge 2,7-2,8V e le lucine LED si spengono la scarica totale della batteria 18650 è così completata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti